Radio Radicale si è svolta a Montecitorio la conferenza dei capigruppo per cercare di risolvere il problema provocato dalle dichiarazioni in aula dell'On. Donzelli che ha accusato alcuni esponenti del PD e il gruppo parlamentare del PD con parole molto dure sul caso Cospito. L'On. Serracchiani e l'On. Grimaldi al termine della capigruppo hanno ratificato la non disponibilità a andare avanti sia nei lavori delle commissioni dove è in esame il decreto ANG né per quanto riguarda i lavori d'aula dove oggi si doveva votare la commissione antimafia e la commissione sugli eco reati. Ma ascoltiamo che cosa hanno detto l'On. Deborah Serracchiani e l'On. Grimaldi al termine della conferenza dei capigruppo. Ricordiamo che subito dopo la conferenza dei capigruppo a Montecitorio l'On. Donzelli si è recato nello studio del Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Ecco cosa hanno dichiarato i due esponenti del centro-sinistro.